Certo, l'auspicio di arrivare in Francia, in Panda, poi andremo pure a Parigi con la Panda. Noi ringraziamo Fiat, il dottor Altarilla per questa iniziativa che mette insieme tutti i valori, come già più volte ribadito, dell'italianità e mette insieme due grandi marchi che hanno portato insieme in questi anni l'Italia a risultati eccellenti. Sono i valori che cerchiamo sia noi che la nazionale di calcio di portare in giro per il mondo. La passione, il rispetto per l'italianità, per il Made in Italy e l'orgoglio di fare qualcosa per il nostro paese. Noi lo facciamo producendo automobili che cercano di entrare nel cuore della gente, come fa la Panda che da tanti anni è la vettura più venduta in Italia, la più venduta nel suo segmento, anche in Europa e la nazionale giocando un bellissimo calcio.